Ah, certamente. A volte mi piace facilitarmi di essere a corte. Chissà che cosa sta succedendo proprio ora. Sicuramente ci saranno dei complotti. E sono certo che Medioscar debba avarsi. Medioscar debba avarsi. Vesco da nel palazzo, la principessa dormirà. Un presaglio oscuro salserà. Un pronto a la corte del re, a guardia la principessa. La guardia nel palazzo non c'è, la morte si avvicina. Corinelli, Oscar, donna per paura. Questa notte a corte, grande l'avventura. Stata in sé la occia, salva la principessa. Questa notte a corte, grande l'avventura. C'è la scelta, Martin Cabriol. Lo sarà la furtita di casa. Non uccidetemi, mi prego. Oscar, questa ragazza è disperata. Inoltre credeva di trovarsi a Versailles. Se si viene a sapere dell'attentato a una nobile donna, può essere condannata a morte. Si è stata fortunata, Rosario. Io avrei potuto ucciderti durante il compattimento, ma io ti credo. Mi sembrate una brava ragazza. André, portala al mio palazzo. D'ora in avanti io vi prenderò cura di voi e non soffrirete più la fame. Anzi, vi insegnerò le buone maniere e a breve diventerete una delle dame di sua maestà. Così potete riconoscere che ha fatto del male la vostra madre. Ma soprattutto, chi era la vostra vera madre? Oh, amici alla Oscar, grazie.